Con 41 milioni hai messo su una squadra da playoff, hai perso Damon, Jambi, Isringhausen, Pegna e senza quei giocatori hai vinto più partite di quando ne avevi. Hai vinto lo stesso esatto numero di partite degli Yankees, ma gli Yankees hanno speso 1,4 milioni a vittoria e tu hai speso 260 mila dollari. So che stai prendendo bastonate da tutti, ma il primo che attraversa il muro è sempre il sanguinato, sempre, si sentono minacciati, non è solo un modo di fare affari, nella loro mente è una minaccia per tutto lo sport, ma in realtà è una minaccia per la loro sussistenza, per il loro lavoro, una minaccia per il modo in cui fanno le cose e ogni volta che questo succede, sia un governo, sia un affario, qualsiasi altra cosa, le persone che tengono le reti, che hanno la mano sul cambio, vanno fuori di testa. Insomma, quelli che al momento non stanno sbantellando la loro squadra per ricostruirla usando il tuo modello, sono dei dinosauri. Se ne staranno seduti con le mani in mano a ottobre a guardare i Red Sox che vincono le World Series. Che cos'è? Ti voglio come mio general manager, è la mia offerta.